E tu che sei? Perché quello ha dormito qui? Possiamo divertirci anche insieme a lui. Io te sono una cosa, tu tu figlio l'altra. Matteo, apri! Ti vai a mettere con una se c'è già un bambino? Lorenzo, ascoltami, scappa! Io non posso permetterti di entrare e uscire dalla nostra vita come ti pare e piace. L'ho capito come sei. Cambierò. Suo padre si è inventato la solita scusa, non viene. Io con te non ci sto. Tu vuoi vedere tua mamma felice, sì o no? Tu che lavoro fai? Aggiustiamo il mare. Ho iniziato facendo tuffi. Tu avevi paura quando ti tuffavi? Tutte le persone coraggiose hanno paura. Mamma non vuole che vada in moto. E noi non glielo diciamo, solidarietà maschile. Potrò avere il diritto di costruirmi la vita che voglio io? Tutto il diritto. Mio padre dice che tu fai il finto buono solo perché ti piace mamma e vuoi continuare a baciartela. Per me non è vero. È spesso un desiderio. Per me non è vero. Grazie a tutti.